Ciao a tutti, oggi voglio registrare questo video per me ma soprattutto per voi perché comunque ce lo meritiamo, almeno secondo me ce lo meritiamo. È un video un po' particolare perché appunto come vi ho premesso già dalle due paroline che vi ho detto prima sarà un video per ringraziare soprattutto voi per quello che comunque mi date ogni singolo giorno perché comunque bene o male anche se non carico un video al giorno voi riuscite comunque a interagire con me tutti i giorni sugli altri vari social e quindi è uno scambio continuo di opinioni, cose che ci succedono giornalmente. Insomma secondo me condividere la vita con qualcuno soprattutto che comunque non si conosce come succede tra di noi può essere una cosa ambigua per molti ma per me ormai è la mia quotidianità e penso anche per voi che comunque vi ci trovate in mezzo e quindi questo pacco che mi è arrivato qui diciamo che racchiude un po' tutto il percorso che ho fatto fino adesso che sicuramente non è una conclusione del mio percorso perché spero di poter andare avanti, di migliorare sempre di più, di crescere sempre di più, di allargare la nostra big family e questo premio è il primo vero riconoscimento di tutto quello che comunque io ho fatto in questi tanti anni che non mi sono pesati neanche mezzo secondo anche perché se mi fossero pesati non sarei ancora qui, non ci metterei ancora il 110.000% di me stessa, non ci impiegherei gran parte della mia giornata e sicuramente non mi vedreste con questa faccia perché sicuramente una cosa che avrete imparato su di me è che non riesco a nascondervi niente quindi se così fosse stato che tutto questo percorso non mi avrebbe più divertito farlo eccetera eccetera sicuramente l'avrei già stoppato da tanto tempo questo è per dirvi ripeto grazie per quello che fate, per quello che mi dite, per come mi avete fatto crescere in questi tanti anni, per come siete cresciute voi in questi anni per le cose che abbiamo condiviso, risate, pianti, eventi e tutto quello che può venervi in mente quindi dopo questa piccola barra lunga insomma più o meno premessa passiamo subito al pacco di cui sto parlando sicuramente già alcuni di voi l'avranno capito questo qui è il pacchetto che mi è arrivato l'altro giorno dagli Stati Uniti precisamente da Indianapolis io l'ho sbirciato perché come potevano sbirciarlo però devo dire che non l'ho ancora preso e tirato fuori dalla scatola quindi questa è la prima volta che lo apro proprio insieme a voi anche perché ripeto è il nostro premio quindi allora tiriamolo fuori dalla scatola, siete pronti? 3, 2, 1 tan 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 sicuramente avrete già capito che cos'è questa è la scatola nera di Youtube con su sottoscritto ilamakeup02 se non si vedrà mai ve lo apriamo insieme sperando di non fare un casino eccolo qua, questo è il coperchio, qui c'è la letterina e niente io direi di definitivamente andare ad aprire questo pacco ebbene sì, come casca faccio tipo un mega fail comunque questo è il premio di Youtube per i 100.000 iscritti per me c'è, non potete capire quanto vale secondo me è bellissimo, poi ripeto non l'ho ancora tolto da tutta l'imbragatura quindi ora lo prendo perché è già messo naturalmente a quadrettino oddio sembra tipo una reliquia guardate che bello, c'è scritto ilamakeup02, congratulation for surpassing 100.000, non so come si legga questo tipo di numeri subscribers Youtube il silver button, questo qui si chiama qua dietro c'è il pernetto per appenderlo e non vedo l'ora di appendere, in realtà penso lo appenderò e poi quando avrò camera nuova, ripitturata e tutto gli darò un posto assolutamente d'onore e spero poi di riceverne anche altri così da fare una sorta di traguardini, no? non lo so, secondo me ci sta quindi detto ciò, questo era il grande annuncio di questo video fondamentalmente ripeto, era per ringraziare voi vi devo tanto perché se non ci foste voi non ci sarei io, non ci sarebbe Youtube non ci sarebbero tutte le belle amicizie che ho fatto qui sul tubo gli incontri, presentazioni e qualsiasi cosa mi sia capitata in questi anni quindi di nuovo grazie grazie tantissime quindi io e il nostro premio vi salutiamo ci vediamo al prossimo video che registrerò proprio dopo di questo io vi mando un mega bacio mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi e fate parte di questa fantastica famiglia che siamo e ci vediamo al prossimo video vi aspetto, ciao!